Nuova escele contro i Spaponisi, si gioca per la diciannovesima e ultima giornata della prima fase nella Champions Cup categoria Open, la nuova escele deve far punti per provare a cristallizzare la propria posizione in classifica, gli Spaponisi basta un punto invece per blindare il terzo posto, la formazione campione in carica parte bene all'undicesimo trova il vantaggio con la deviazione centrale di rigore da parte di Marco Melis, gli Spaponisi che insistono e vanno vicini al raddoppio con un destro, violento destro da parte di Farina dalla corsa sinistra pallone che termina sulla parte esterna della porta, la nuova escele si fa vedere con questa conclusione da parte di Karta alzata in corner da Pisano, primo tempo tutt'altro che divertente verrebbe da dire e finisce con questo parziale, nuova escele 0, gli Spaponisi 1, classica partita di fine stagione, in questo caso di fine prima fase, a inizio secondo tempo nuova escele vicino al pari con una splendida punizione battuta da Luca Unano che servola di poco l'incrocio destro, gli Spaponisi rispondono con un'azione bella, molto manovrata, Azzeni riceve palla sulla sinistra, la sventagliata dalla parte opposta per Melis che fa da sponda per Di Giovanni destro di prima attenzione, pallone che fa la barba al palo, alla destra di Mattia Sisto la reazione della nuova escele con Poddie che si divora, il punto dell'1-1 sotto porta strepitoso però va detto nella circostanza Pisano, Melis vicino alla doppietta personale nella circostanza il suo mancino termina di poco al lato del palo sinistro, pericoloso anche Azzeni direttamente su calcio di punizione, nuova escele rimette fuori la testa e trova il pareggio al quarantesimo, autore del gol è Marco Massida, passano appena però tre giri di lancette e gli Spaponisi tornano in vantaggio, Di Giovanni prima colpisce la traversa da posizione ravvicinata, poi ribadisce in rete anche con un pizzico di fortuna aiutato dal clamoroso errore nella coppia Mattia Sisto, Simone U, Azzeni a caccia di gol nella circostanza ancora Mattia Sisto, bravissimo, da quest'altra parte la nuova escele cerca con tutte le forze di portare a casa un punto, si rende pericolosa su calcio d'angolo con Riccardo Carta che di testa manderà di poco sopra la traversa, gli Spaponisi sono matematicamente terzi in classifica nella Champions Cup Open, la nuova escele deve aspettare i risultati delle avversarie